Nasce ufficialmente la Calport SRL. Nello studio notarile Giuamarassi di Cagliari, il presidente dell'autorità di sistema portuale Mare di Sardegna, Massimo Dejana, ha firmato l'atto costitutivo dell'Agenzia per il lavoro portuale del Transshipment nel porto di Cagliari. A poco più di due mesi dalla seduta del comitato di gestione che ne ha deliberato la Costituzione, la Calport SRL entra nella sua fase operativa. Con la firma dell'atto costitutivo infatti assumono rispettivamente l'incarico di amministratore unico e revisore legale dei conti Roberto Casini, esperto di management e consulente direzionale per aziende denti e Carlo Sedda, commercialista, entrambi selezionati con avviso pubblico dell'autorità di sistema portuale per la raccolta di candidature. L'Agenzia, con capitale sociale di 20.000 euro, verrà iscritta nei prossimi giorni sul registro delle imprese ed avrà la sua sede legale negli uffici del Terminal Crociere del Moloichinusa. La Caralis, agenzia per il lavoro portuale del Transshipment, avrà una durata legale di 36 mesi e sarà finalizzata a garantire il supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti, percorso che passerà attraverso la formazione professionale, finanziata dalla Regione Sardegna con 1.400.000 euro di fondi europei di adeguamento alla globalizzazione, la somministrazione di lavoro ad imprese abilitate a svolgere attività nell'ambito di competenza al fine di integrare il proprio organico. La fornitura di lavoro temporaneo ad integrazione dell'organico esistente a qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza dell'autorità di sistema portuale, ma soprattutto garantirà un reddito dignitoso ed un costante aggiornamento a tutti gli ex lavoratori impiegati nel comparto contenitori nell'emore dell'auspicata ripresa dei traffici nel compendio del porto Canali di Cagliari.